Onorevole Pagano, quando spuntano le magliette del Napoli sono alle sue spalle, non poteva non essere presente lei a questa bella serata? Sì, è vero, lo riconosco, sono felicissimo di essere qui, c'è anche la maglietta di Diego Armando Maradona, questa mostra delle maglie di Nicola Raccuglia che è stata veramente una bandiera del mondo dello sport, soprattutto perché era un'azienda del territorio e quindi mi faceva piacere esserci e poi diciamocelo francamente ci sono tanti ricordi della famiglia Raccuglia con la squadra del Napoli, con i personaggi del Napoli, c'è stata un'epopea importante e quindi sono davvero felice di essere qui questa sera. Tanti ricordi, tante maglie, però il cuore della serata ha lo sfondo della solidarietà per il reparto di pediatria. Sì, è bellissimo che ogni volta che Napoli Club Abruzzo organizza queste manifestazioni poi devolve, come dire, gli interoiti per scopi di beneficenza, a questo particolare reparto di pediatria credo che sia bello poter aiutare soprattutto i più piccoli bambini che purtroppo hanno bisogno di cure e quindi anche per questo motivo, anzi direi soprattutto per questo motivo, sono lieto di partecipare. Dottor Arrico, è sempre bello quando la solidarietà incontra soprattutto i più piccoli? Assolutamente sì, è un momento di incontro importante perché la sanità pubblica, ovviamente, fortunatamente difendiamola, cammina ancora con i suoi piedi, ma è molto importante che la sanità pubblica sia imbricata con la società civile, che le persone sappiano di poter contare sulla sanità pubblica, di sapere che noi siamo lì per i loro bambini, per i bambini di Pescara, per i bambini che vengono da dovunque ci trovano in qualunque momento, Natale, Pasqua, Capodanno, di notte, di giorno, c'è un gruppo di infermieri e di medici che è pronto a prendere in cura qualunque bambino abbia bisogno di noi. Lei è circondato da volontari del Clown Doc, quanto sono preziosi questi volontari? Sono una misura continua di questo abbraccio tra la città e la medicina del vostro ospedale, strappano un sorriso a una mamma preoccupata, distraggono un bambino da una lacrima, da un pensiero, anche a noi ogni tanto regalano un momento di gioco, di scherzo in corridoio, è un segno tangibile del fatto che si può essere affettuosi e caldi anche nei momenti di preoccupazione. Roberto, siamo giunti alla fine di questa serata, tante emozioni ma soprattutto tanta solidarietà. Sì, tanta solidarietà perché noi come, ripeto, come Napoli Club Abruzzo siamo sempre vicini a queste cose e cerchiamo il più possibile di aiutare le persone più bisognose di noi. Senti, avete già in mente, tu e papà Vittorio, qualche altra bella iniziativa? Ce la puoi anticipare? Allora, le abbiamo tante, tantissime in mente. A livello logistico è difficile perché io abito in Liguria, non sto più qui da Abruzzo da un anno, però cercheremo di fare qualcosa. Dicci qualcosa di più. Già a gennaio e febbraio ci sarà qualcosa al castello di Nocciano, ma non vi anticipo niente.